L'ultima sera stavo aspettando l'autobus a pittonare a mia casa e c'era un corretto che cantava da ragionetto e io pensavo da un po' che ci fanno a cantare scuotare e poi aspettava l'autobus Cristiano che ero cucchisti che cantavano, venne in nemia e mi fa Oh un padre, piacere, io mi chiamo Jaffo, non so come si chiamava però Jaffo E mi ha detto tuning in, mi ha detto ho un caffè, io mi sto aspettando l'autobus a riuscire a casa Ah va bene, su voi ho tocchato io, no no, non ti preoccupare, è caso io, va bene E poi mi fa posso friare e pittare? E io pensavo che tanto io dopo la sua casa faccio cuore, vi facciamo un contente ci diciamo se e lui mi fa va bene allora facciamo una cosa io ti metto le mani in cotto ci si no le mani in cotto non ti assidia le mani in sacchette e lui mi fa le mani in cotto niente non ti rimetto e ha cominciato a aprire il pimmio io pensavo che aprire il pimmio a sua casa che ho tagliato quando siamo a cuccare non ho da un momento preciso perciò si mise a bagnare a voci di testa dopo un'altra ghiaccia grazie mio signore Gesù cacciano una luce a me e a compagni Savo grazie mio signore Gesù cacciano una grazia tua a me e a compagni Savo grazie signore Gesù io mi so dopo perché non mi poteva dire perché ha firmato era dopo ci ha passato il dopo allora ti chiesto che ho tagliato così che sta bucidesta così grazie tutto così tutti che ho tagliato ovviamente non so per che fare niente poi dopo una pari di minuti ci ha finito e mi fa va bene ho finito ah va bene chi vuole a mangiare mi fa sicuro un caffè non voglio no no non voglio grazie va bene allora ci vediamo ciao a mangiare mister e si a mangiare Grazie.